La scoperta di Pompei, a metà del Settecento, è una vera rivoluzione, che sposta il baricentro dell'attenzione verso sud. L'apertura degli scavi fa cambiare le rotte del Grand Tour europeo e creano l'idea moderna di turismo, per cui a Pompei arrivano in visita intellettuali e grandi artisti, da Wintelman a Goethe, da Mozart a Picasso, fino a Pink Floyd. Nel frattempo cresce anche l'attrazione per il momento più drammatico per la città antica, l'eruzione del Vesuvio. Gli ultimi giorni di Pompei diventano un best-seller nella letteratura, nella lirica e nel cinema, dal romanzo di Edward Bullerlitton a quello di Robert Harris, dal melodramma di Giovanni Pacini al film di un giovanissimo Sergio Leone. Pompei diventa così un generatore di storie, che i nuovi ritrovamenti continuano tuttora a rendere praticamente inesauribile. Intervengono, Maurizio De Giovanni, scrittore, Cesare De Seta, professore emerito di storia dell'architettura all'Università Federico II di Napoli, Luigi Farrauto, autore di Gui dell'Only Planet, Luigi Gallo, storico dell'arte e direttore della Galleria Nazionale delle Marche di Urbino, Anna Ottani Cavina, docente di storia dell'arte alla Johns Hopkins University di Bologna, Paola Villani, docente di letteratura italiana all'Università Suor Orsola ben in casa di Napoli.